Ciao a tutti da Diego di TecnoFallon.it e benvenuti in questo nuovo video Oggi si parla di auricolari True Wireless, guardate qua ne ho 5 modelli Ho selezionato 5 modelli perché ultimamente ho avuto la possibilità di provarne diversi E quindi ho detto ma sì dai facciamo un video dove vi spiego diviso per fascia di prezzo, tipologia eccetera eccetera Qualche mi porrei conto di questi auricolari che secondo me sono quelli che meritano un pochino più di attenzione Quindi in questo video troverete appunto un discorso generale su ogni tipo di auricolare che ho provato Se poi volete vedere le recensioni di ogni dispositivo li trovate sul canale Sono 5 auricolari True Wireless questi, più uno, il più uno è una cuffia Over Air che ho provato Che anche quella è davvero molto molto interessante Quindi niente, giriamo la fotocamera e vediamoli tutti nel dettaglio quali sono i pro e contro di questi auricolari True Wireless Iniziamo subito con questo paio di auricolari Koumi Si chiamano Koumi ANC 860 e come avrete sicuramente capito dal nome hanno tra le sue caratteristiche principali La funzione di ANC ovvero la cancellazione attiva del rumore Come funziona? Insomma diciamo che c'è questa cancellazione attiva del rumore però non è che sia molto molto performante Sono comunque degli auricolari interessanti perché offrono davvero una qualità delle chiamate molto molto performante Direi quasi esagerata per il loro prezzo Hanno una buona vestibilità anche se io non le ho trovate diciamo comodissime dopo un certo numero diciamo di ore indossate Però anche queste sono cose diciamo personali Scusate Mentre per quanto riguarda la qualità sonora hanno un'equalizzazione improntata molto verso le frequenze basse Hanno un prezzo di circa 37 euro le trovate su Amazon E devo dire che comunque nel complesso si cercate un prodotto con l'ANC che quando ascoltate musica Questi qui sono in ear ma non isolano tantissimo dall'esterno Però attivando l'ANC comunque avrete noterete diciamo la differenza Avranno cancellati dei rumori come ad esempio il traffico delle auto Un rumore magari insistente come può essere un viaggio in auto o l'aereo eccetera eccetera Quindi diciamo non sono poi affatto così male Passiamo adesso a queste OK Sono le OK EPT27 Una novità per OK è l'utilizzo del chip Qualcomm Questi hanno il chip Qualcomm sia per quanto riguarda il collegamento con il bluetooth allo smartphone Sia per quanto riguarda il processo sonoro Quindi supportano APTX AAC E in più hanno il CVC 8.0 Che voi direte ma che minchia stai dicendo con tutti questi termini Non è altro che la cancellazione del rumore durante le chiamate Ebbene questi auricolari li ho trovati davvero molto molto performanti Sono in assoluto i miei preferiti per quanto riguarda OK Costano leggermente un pochino di più rispetto allo standard Vengono circa 40 euro Però offrono una qualità sonora davvero appagante Una qualità in chiamata davvero esagerata Anche questi hanno due microfoni per auricolari E devo dire che in chiamata ci sento davvero molto molto bene Sono piccoline, comode, hanno le dimensioni più o meno delle Airpods E le ho trovate davvero comode da indossare Quindi diciamo che queste in assoluto sono le mie preferite Per quanto riguarda la marca OK 40 euro abbiamo detto E poi passiamo a queste Huawei Fascia di prezzo 89 euro Auricolari che ho trovato davvero performanti Per quanto riguarda l'audio in chiamata Top, davvero esagerato Batteria 10 ore Bluetooth è una versione 5.2 Gli altri sono tutti 5.0 Abbiamo poi l'ANC Anche questi auricolari hanno l'ANC Che è decisamente più performante di questi auricolari Meno performante delle Airpods Pro Ma nella fascia di prezzo al quale vengono vendute Ovvero 89 euro Io penso che sia più che accettabile Funziona comunque bene Chiaramente ci accorgiamo che non è tanto performante Quando siamo in una Non ascoltiamo musica Ma guarda lo accendiamo perché non vogliamo sentire rumori Beh, qualcosina filtra Diciamo ad esempio rumore delle posate Quello non riesce a filtrarlo Però comunque in auto Assolutamente viene ovattato molto di più Il rumore dell'auto Eccetera eccetera Purtroppo non si viaggia più Quindi non so dirvi se in treno, autobus O in aereo come si comporta Dal punto di vista audio Le trovate molto ben bilanciate C'è anche l'applicazione Per andare a gestire poi i comandi touch Comunque sono degli auricolari Che io sinceramente Per 89 euro Se uno non vuole spendere tantissimo Li trovo un'ottima alternativa alle Airpods Pro Perché comunque funzionano con qualsiasi tipo di smartphone Offrono un audio davvero buono Per la loro fascia di prezzo E questo lo consigliate a diversi amici Che magari volevano un prodotto un pochino più comodo Soprattutto per utilizzare durante il lavoro Per le chiamate eccetera eccetera E sono rimasti molto soddisfatti Tant'è che vi parlano ancora E questa è una buona cosa Passiamo a queste Teofel Supreme Inn Un brand tedesco Specializzato in musica Di alta qualità Perché comunque sono conosciuti per La loro fama Diciamo i diffusori Hi-Fi Sono arrivati in Europa In Italia Fondamentalmente con una serie Dei loro prodotti E io ho avuto la possibilità Di provare queste Supreme Inn Cosa hanno in particolare? Beh come vedete Hanno il design con questo filo Che va passato dietro il collo Hanno lo spegnimento magnetico Tac In questo caso Basterà fare così per spegnerlo Hanno il telecomandino sul filo E sono di una comodità davvero imbarazzante Ma imbarazzante dal punto di vista positivo Pesano pochissimo Hanno durata della materia di 18 ore E hanno questo sistema diciamo di regolazione Vedete Tac Tac Che una volta che noi andremo ad infilare L'auricolare nell'orecchio Questo si andrà a incastrare nella parte interna Diciamo superiore dell'orecchio E sono davvero molto covole da indossare Per quanto riguarda poi la qualità sonora Beh qui ragazzi Ho veramente sentito la differenza Di un prodotto premium Perché Buonissima la risposta dei bassi Buonissime le frequenze medio-alte Hanno anche una certa spazialità Che comunque Vi fa apprezzare dei suoni di alcuni brani Io li ho testati con Tidal Quindi comunque qualità Hi-Fi E devo dire che Sono rimasto davvero molto molto soddisfatto Hanno un prezzo che è leggermente superiore alla media Costano 119 euro Però Anche queste sono ottime in chiamata Perché utilizzano il Sistema CVC 8.0 di Qualcomm Che è quello che diciamo Va a cancellare il rumore di fondo Durante le chiamate E lo trovate Le riscoperte Come vuole da indossare Perché alla fine poi Avere questo al collo Con la possibilità di appoggiarle E di chiuderle Non è mica affatto male ragazzi E non è assolutamente da sottovalutare Ed infine arriviamo alle Airpods Pro Airpods Pro che Premetto Per chi ha un iPhone E ha voglia di sborsare Circa 200 euro Queste sono davvero il top Sono integrate alla grande Con il sistema operativo Sono integrate alla grande Con Siri Sono integrate con tutto l'ecosistema Apple Ed hanno una qualità sonora Che io l'ho trovata davvero esagerata Tra l'altro sono le migliori Per quanto riguarda la comodità Queste veramente le indossate Hanno un volume altissimo Cioè io non ci riesco ad ascoltarlo A volume massimo In più hanno un ottimo Cancellazione del rumore attivo Hanno un NC davvero molto molto performante E soprattutto Hanno anche una modalità ambiente Che mi sono dimenticato di dirglielo È presente anche sulle auricolari Huawei Modalità ambiente che ci permette di parlare Diciamo con una persona Ascoltando la sua voce Diciamo attraverso gli auricolari Questi sono davvero il top Per chi ha un iPhone Chi ha voglia di spendere 200 euro Comunque si trova un prodotto davvero completo Che funziona con tutti i dispositivi Che avete in casa Si sincronizza con il vostro iCloud Se avete l'iPad vicino Lo aprite Si collegano all'iPad Cioè Veramente In questo caso c'è la differenza Beh si costano Costano 200 euro Però ragazzi È così Diciamo Le potete lasciare anche dove sono Nel senso Bene Io spero di avervi dato una Buona diciamo infarinatura Sono andato veloce Perché non mi piace fare i video Stralunghi E quindi Giriamo la fotocamera E veniamo alle conclusioni Scherzetto Perché Perché mi sono dimenticato Di parlarvi della cuffia più uno Ovvero della cuffia Over ear Stavo già mettendo via tutto ragazzi Un esaurimento Galoppa Comunque Eccole qua Sono Si chiamano Super EQ S1 È un brand di One Odio Ok È un marchio Che ho già avuto la possibilità Di provare dei cuffioni E io li trovo davvero Sempre molto interessanti Questa volta hanno fatto Questo tipo di auricolari Una linea un pochino Più giovane Che ricordano molto Da vicino le Beats Comunque E questi cuffioni Hanno un driver da 40 mm Sono davvero ben fatti Dal punto di vista estetico Comode da indossare Memory foam Nel padiglione Ma soprattutto Anche queste Hanno la ANC Il sistema di cancellazione Di rumore di fondo E Devo dire che funziona Davvero molto molto bene Cavoli ragazzi Poi su un cuffione del genere Devo dire che Vi accorgerete proprio Della differenza Sono cuffie che Hanno una buona qualità Audio Mi sarei aspettato Un volume leggermente Più alto Hanno durato Della batteria Di 40 ore Davvero tantissime Ed hanno un prezzo Di circa 55 euro Il prezzo ufficiale Su Amazon è 69 Però Spesso sono scontate Nel 20% Sul sito di One Audio Costano Mi sembra 49,90 Comunque dai Anche queste Sono delle cuffie Che Le trovate comode Anche per Chi le utilizza Per la didattica A distanza Perché Per fare anche Videoconferenze Hanno il microfono Integrato Che ci permette Di chiamare E anche Eventualmente Di fare le telefonate Tasti per gestire Il tutto Davvero Delle buonissime Cuffie Che vedete Quando non le usate Si ripiegano Si mettono nella custodia E via Bene Siamo arrivati al momento Delle conclusioni Le conclusioni Probabilmente Le avrete già Tratte da sole Comunque Questi auricolari Sono davvero Divisi Per ogni fascia Di prezzo Sicuramente C'è chi Desidera Spendere Un pochino Di più E avere Magari Dei prodotti Top Oppure Andare Nel mezzo Oppure Spendere Il minimo Indispensabile Però Devo dire Che io Assolutamente Sono rimasto Molto soddisfatto Da questi Tipi Di auricolari Quindi Se siete interessati Trovate i link Per l'acquisto Sotto alla Discrizione Del video Vi consiglio Poi di andare A vedere Se volete Approfondire Tutte le recensioni Di ogni Auricolare Che trovate I link Anche in questo Caso Sotto alla Discrizione Del video E niente Mettete mi piace Se avete Le domande Sono qua Per rispondervi E vi auguro Una felice giornata Ciao Da Diego